Ciao a tutti amici e bentornati nel mio canale l'acconciatura che vi propongo oggi è realizzata con due trecce all'isca di pesce e una olandese dividiamo i capelli in tre sezioni, due le teniamo da parte e con quella in alto realizziamo una trecce all'isca di pesce quindi dividiamo la sezione in due giocche dal lato esterno di una prendiamo una sezione e la uniamo all'altra ripetiamo anche con l'altra parte e proseguiamo così per tutta la lunghezza con la seconda sezione di capelli facciamo un'altra treccia all'isca di pesce ma qui andremo ad allargare le varie sezioni it's an forbade in bliss can't stay still Con l'ultima sezione faremo una traccia olandese e dopo il primo ingrocio aggiungiamo sezioni di capelli dalla testa e allarghiamo le varie ciocche. Riprendiamo le altre trecce, le leghiamo insieme e se vogliamo possiamo aggiungere un punto luce. E questo è il risultato, spero che vi sia piaciuto, se così lasciatemi un like, un commento per farmi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che potete andare a vedere l'articolo dedicato nel mio blog e se volete mi potete seguire anche su Facebook, Instagram e Twitter e se vi va alla prossima, ciao!